Siamo sulla SP 129 che collega Cava, Cava dei Tirreni e la frazione di Croce, siamo insieme ai volontari delle guardie ecozofiche dell'Ampana ed il comandante Vincenzo Senatore. Buongiorno comandante, siamo di fronte a una vergogna incendiaria che affligge Cava ormai già da una quindicina di giorni e siamo venuti qui a constatare un'altra vergogna, ovvero il fenomeno delle discariche abusive e dei conferimenti pericolosi sulla 129. Cosa ci dice in merito? In merito posso dire che questo è il nostro quarto intervento che facciamo sulla Cava Cruce. Un intervento l'abbiamo fatto quattro anni fa dove abbiamo segnalato tutto al comune di Cava che successivamente ha provveduto alla pulizia di quest'area, dove ci troviamo a dire che era molto pieno di amianto, materiale risulta ed altro. Dopo un anno siamo ritornati e abbiamo trovato sempre altri materiali, quindi il deposito non si è fermato e continuato come sta continuando tuttora. Allora, delineata questa situazione, i provvedimenti che l'Ampana prenderà? Mi parlava di una lettera al Presidente della provincia Giuseppe Canfora. Sì, allora si tratta della SP 129, quindi strada provinciale, che anche sulla strada provinciale abbiamo diversi abbandoni di rifiuti, come vediamo in quest'area che è parco 10 mare, quindi competenza di Cava, quindi sia la provincia sia il comune devono adoperarsi affinché ripristino un po' i luoghi e li mettono in condizione che i cittadini possano transitar liberamente, possano farsi da passeggiare, possano respirare finalmente aria pure. Questo lo stiamo dicendo da 4 anni, ma la situazione è peggiorata e peggiorerà giorno per giorno. Perché? Perché manca una vigilanza e senza vigilanza i cittadini, gli incivili ce ne sono tanti e non solo di Cava. Oggi, ad esempio, abbiamo trovato una prova che riguardava un cavese, altre volte abbiamo trovato prove che riguardavano persone di Fisciano, San Severino, Baronissi e Cava. Quindi un po' tutta la zona che viene ad abbandonare i rifiuti in questo luogo ormai l'hanno presa come una discarica. La discarica non è, quindi dobbiamo darci una mano tutti quanti, specialmente le istituzioni, sia nella vicinanza e sia nel ripristinare un pochettino i luoghi, perché un luogo ci avevamo bello, il Parco di Cimari. Visto che adesso anche il Parco di Cimari non è più percorribile, non è più transito per gli appassionati delle montagne, quindi a un certo punto si devono dare una mossa alle istituzioni. Noi faremo possibile, noi non finiremo oggi la nostra battaglia nella vigilanza, vigileremo sempre, anche perché abbiamo un decreto della provincia, un decreto della prefettura che ce lo permette e finché non vediamo tutto pulito la nostra voce ci sarà sempre. Perfetto, allora il rimedio più semplice o meglio la contromisura più semplice per combattere questo fenomeno? La contromisura è semplice, per quanto riguarda noi non c'è molto da fare, anche perché è una sola strada, la cava croce, non ci sono altre stradine, stradette, quindi la vigilanza è semplice metterla, giornaliera non mensile e neanche settimanale, ci vuole una vigilanza giornaliera perché il deposito avviene in tutti i momenti, quindi con una vigilanza già faremo dei grossi passi in avanti, se poi metteremo una telecamera, anzi due telecamere, una qua a croce e una a cava, cioè in entrata e in uscita sicuramente fra qualche mese non ci saranno più depositi. Possibile individuare subito i responsabili? Si individua subito i responsabili e sicuramente poi con il passato delle voci non ci saranno più depositi incontrollati. E noi ce l'auguriamo e ricordiamo che prevenire è un dovere delle autorità competenti, prevenire costa meno che smaltire soprattutto. Eh sì, come avete visto anche voi oggi ci sono molti rifiuti speciali. Abbiamo visto dell'Eternit, delle canne fumarie qui sotto, non si vede perché c'è una piccola collina, ci stanno delle carcasse di vetture arrugginite, quindi testimonianza di anni. Sì, ci sono dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e quindi la salute dei cittadini è messa in serio pericolo. Pertanto se si danno una mossa noi faremo il tutto per interessare gli organi competenti e tocca al lodo. Perfetto, noi vi ringraziamo per la disponibilità e per il vostro lavoro. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.